Barattoli di vernice, spazzatura abbandonata, una lattina ben ben infilata tra le rocce. Ma non siamo in discarica. Questo spettacolo si presenta all'appassionato di escursionismo sulla strada Cadorna, da Romano a Bassano, al nono tornante. È la zona che porta al sentiero Due Valli e verso il Nosella, una strada ben nota agli appassionati di trekking. Peccato per lo scenario, decisamente poco naturalistico e per amanti dello sport en plein air.